Restituire la speranza del lavoro e la dignità occupazionale al sud e soprattutto a una regione come la Calabria che vive una crisi buia nella difficile congiuntura generale con lo sguardo rivolto principalmente ai giovani, puntando alla stabilizzazione dei precari utilizzati per anni dalla pubblica amministrazione, misurandosi una volta per tutte in maniera vincente con la piega del lavoro nero senza tralasciare gli ammortizzatori sociali. Queste le quattro priorità per la Calabria illustrata nel corso della sua dettagliata relazione questa mattina dal segretario della CISL alla punta dello stivale Paolo Tramonti che ha riunito gli stati generali del sindacato di Bonanni a Pizzo Calabro. La Calabria ha urgenza di avere e di dotarsi di un piano strutturale per il lavoro e l'occupazione che punti almeno a quattro priorità, la nuova occupazione soprattutto per i giovani e prendiamo atto positivamente anche dell'avvio anche in Calabria del progetto Garanzia Giovani. Poi abbiamo il problema della stabilizzazione del precariato, abbiamo un problema ancora notevole per quanto riguarda il lavoro nero e sommerso e poi tutta la platea dei lavoratori negli ammortizzatori sociali. Non è mancato un richiamo all'emergenza perenne nella quale verse il sistema sanitario calabrese per Tramonti è giunta l'ora di lasciarsi alle spalle l'era commissariale. C'è bisogno di ritornare ad una gestione ordinaria e rilanciare un sistema sanitario efficace ed efficiente che dia risposte ai cittadini ma anche ai tanti operatori, medici e paramedici che quotidianamente prestano la propria opera.